Il sisma del maggio 2012 ha reso inagibili diversi edifici anche nella città di Ferrara. Tra questi rientra una elegante palazzina di via fiume, costruita quasi un secolo fa, di acer. Ora lo stabile è prossimo ad essere riqualificato. L'edificio è stato fortemente danneggiato nel sisma del 2012. Ha avuto dei danni a livello strutturale, in particolar modo sulle facciate e sui collegamenti tra le facciate e i solai. Questo ha determinato dal punto di vista della protezione civile una classificazione come E, che in gergo sarebbe la inagibilità dell'edificio. Quindi l'edificio è stato svuotato, gli inquilini che c'erano hanno trovato una nuova localizzazione abitativa e noi abbiamo potuto iniziare le operazioni propedeutiche, la progettazione. Praticamente adesso il progetto è stato completato, è stata bandita la gara d'appalto, di cui sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte. La commissione sta valutando le offerte ricevute, quindi pensiamo che nel giro di un paio di mesi i lavori possano iniziare. I lavori inizieranno dunque a breve, ma per quello che riguarda le famiglie che occupavano questa palazzina, dove sono oggi e soprattutto però potranno rientrare all'interno di questi stabili? Allora, le famiglie che occupavano la palazzina, queste famiglie è stato offerto un nuovo alloggio. Questo alloggio poteva essere o un alloggio temporaneo, in gergo noi diciamo in parcheggio, oppure un alloggio definitivo, a seconda delle necessità della famiglia stessa. Quindi chi ha scelto l'opzione dell'alloggio temporaneo potrà rientrare nell'alloggio che occupava precedentemente. Chi invece ha scelto una nuova sistemazione definitiva lascerà libero l'appartamento dove prima abitava che verrà riassegnato con le graduatorie. Entrando invece nel dettaglio dei lavori, ovviamente in attesa che partano ufficialmente, insomma quali saranno le attività che verranno svolte all'interno? Quali sono le norme che oggi devono essere assolutamente applicate per questi stabili che hanno ovviamente una certa storicità? Allora, in questo caso abbiamo un intervento massiccio, un intervento impegnativo. Infatti stiamo parlando di un budget di circa 1.800.000 euro come impegno finanziato chiaramente con i fondi regionali della ricostruzione post-sismica. I lavori riguarderanno sia le strutture che verranno adeguate alla nuova normativa tecnica del 2008, alla normativa tecnica del 2008 che è appena uscita quella del 2018, e verranno anche realizzate completamente tutte le partizioni interne, gli impianti e anche una serie di coibentazioni sempre per garantire la sostenibilità energetica e i risparmi energetici più adeguati quelli che sono previsti dalle norme attuali. È chiaro che in questo caso trattandosi di un edificio storico che è anche una tutela da parte della sovrintendenza, tutti gli interventi sono stati coordinati con la sovrintendenza di Ferrara. Quindi diciamo questo diventa l'ennesimo esempio del fatto che luoghi che possono risultare oggi degradati possono essere assolutamente riqualificati in zone anche particolari e storiche della città. Questo sicuramente è tutta una questione di scelta di tecnica e di tecnologia. Intanto i primi lavori stanno già riguardando i marciapiedi di Via Fiume. In questo caso specifico il Comune ha attuato un intervento per il rifacimento dei marciapiedi di tutta l'asse viario di Via Fiume. In questo specifico caso abbiamo coordinato l'intervento ACER Comune per fare solamente la cordolatura di chiusura che si vede allineata con quelle che sono state già completate mentre per quanto riguarda la parte di marciapiedi interno rimarrà al grezzo per darci la possibilità di intervenire sulle fondazioni senza disfare quanto sarebbe stato comunque fatto dal Comune garantendo così economicità anche nei lavori ovviamente. Quindi ancora un po' di attesa per quello che riguarda le marciapiedi. Vediamo invece che gli ingressi sono sigillati. Com'è la situazione al momento all'interno di queste palazzine? Le palazzine sono state svuotate ovviamente possono entrare solamente addetti ai lavori perché chiaramente essendo un fabbricato inagibile necessita di particolari precauzioni e le porte sono tutte state sbarrate perché come spesso avviene in casi di edifici abbandonati poteva esserci la possibilità che si introducesse qualche persona senza fissa dimora che aveva bisogno di trovare un tetto e quindi abbiamo prevenuto la cosa sigillando appunto le aperture. Entriamo dunque nel dettaglio di ogni singolo appartamento. Intanto quali sono le dimensioni e quindi come sono strutturati questi appartamenti? Allora gli appartamenti per quella che è la struttura originaria hanno una conformazione con due stanze e un bagno. Per quello che invece riguarda il progetto di recupero si è dovuto intervenire nella prospettiva di un alloggio monolocale perché dovendo adeguare i bagni e i servizi igienici alle dimensioni previste come minimi dagli standard attuali normativi si è dovuto sacrificare praticamente la stanza e trasformarla in un ambito unico con la camera da letto diventando un monolocale. Quindi prevedete che ci siano molti assegnatari, famiglie e monopersona? Monopersona o due persone al massimo per molti degli alloggi sì. Le dimensioni sono analoghe per tutti gli alloggi o ci sono alloggi che sono magari più grandi infatti di metri quadri? Ma le dimensioni sono diversificate perché chiaramente essendo una struttura esistente c'è una conformazione diversa però bene o male quelli che sono i monolocali rimangono tutti su dimensioni intorno ai 30-35 metri quadrati mentre quelli che sono i bilocali invece sono un po' più grandini avendo le due camere.